Buongiorno a tutti, sono Gerardo Acampora e sono l'ediatore di Asta la Pizza, la prima pizza sullo stecco. Quest'idea mi è venuta nel 2011 guardando due ragazzi sulla spesa di grado, uno che mangiava una trancia di pizza e un altro che mangiava un gelato, il classico Magnum, sullo stecco. Lì per lì ho pensato di poter coagulare insieme le due cose, quindi ho creato la pizza sullo stecco. Oggi come oggi questo prodotto è un prodotto brevettato, io ho potuto vendere parte di questo brevetto a una multinazionale sudafricana che mi ha dato i soldi e la possibilità di far partire realmente questo progetto. Il prodotto è stato premiato alla Fiera Internazionale dell'Alimentazione più grande del mondo, che è la Nuga di Colonia come prodotto più innovativo dell'esibizione. In Italia in solo 24 ore ci ha dato un premio come New Solution Product per il 2014 e l'associazione Confindustria al White Innovation Festival ci ha dato una menzione come prodotto più innovativo. Il food è sicuramente l'unico comparto che soffre meno la crisi rispetto agli altri e un'immigrazione nel food di questo calibro trasversale come la pizza non si vedeva detta della Mestreda ai tempi dell'Aprimus.